Ma che te vuoi rimediato? Ce vuoi la bicicletta? Subito. Se non me presento subito, per posto se lo via un altro. Che si può fare allora? E che vuoi fare? Buongiorno, signora Riccio. Buongiorno, signora. Non te la dovevi impegnare, sta bicicletta, andò... E che te mangiavi? Fate zitto. Mannaggia a me quando son nato. Non te fa sentire. Dov'è il capo ufficio? Da là. E cosa sta bicicletta? Scusi. Mi chiamo Ricci. Ricci Antonio. Se può fare qualche cosa? Sì, è tempo a cercare te. Ma che mi devo mettere a girare per Roma? E posso dire io che manco la conosco. Ma se può dare la matricola, è connotato. Eh, capirei, ci vorrebbe tutta la squadra mobile solo per star a cercare biciclette. Ma allora che la faccio a fare, sta denuncia? Lo servì. Dette che domani la trovi da qualche biciclettaio in mezzo alla via. Chiamo un agente e sei in regola. Novità, brigadiere? No, niente, una bicicletta. Grazie, buongiorno. A proposito, che marca era? Fides, tipo l'Ezio 1935. Non si può dire che la conosce meglio lui da me. Ma almeno se dividiamo il lavoro, perché sai, qui smontano tutto. Ah, che marca era? Perché, la volete comprare? No. Che trucchiavo, non vedi che è il bernice fresco? Sì, va bene, ma devo guardare solo il numero della matricola. E che ce fai con il numero della matricola? Che te compri il numero? No, non si compra il numero, ma va a vedere il numero del telaio. E se io lo voglio far vedere? Vado a chiamare la guardia e poi vediamo. E va a chiamare chi te pare, va. Che t'hanno rubato? La bicicletta. La bicicletta. E che vuoi che ti dica, figlio mio? Io posso dire solamente quello che vedo. Ascolta bene. O la trovi subito, o non la trovi più. Hai capito? O la trovi subito, o non la trovi proprio più. Sta accorto. Come ti chiami? Raffreddo Cadello. Poi fa la tenuccia. È incensurato il mio figlio, è incensurato. È incensurato il mio figlio. È incensurato il mio figlio, ma che sei male. Andate, va. Andate, va. Andate, andate. Bella roba che insegna il tuo figlio. Manca la vergogna. Sei fortunato che hai trovato quello lì. Ma se era per metterci, portavo dentro. Vattene a casa, che ti ha detto bene. Va, va. Tira, tira. È meglio che te ne vai, va. Lo ringrazio a Dio, va. Mann. Grazie, Anna. Grazie.